il 26 marzo dalle 20 e 30 alle 21 e 30 per lunghissimi 60 minuti torna l'ora della terra nel 2010 più di un miliardo di persone in 128 paesi del mondo si sono unite in un'unica voce potentissima per chiedere un futuro sostenibile per il pianeta ovunque tu sia spegni la luce e fai sentire la tua voce ma fai in modo che l'ora della terra non sia soltanto il 26 marzo ma ogni giorno ogni ora un piccolo gesto della tua quotidianità per contribuire veramente ad un futuro più sostenibile bevo soltanto l'acqua del rubinetto non uso le bottiglie di plastica faccio un bel riciclo guarda cosa ti faccio vedere vado in bicicletta la mia voce quest'anno sarà insieme alla tua e allora cerchiamo di fare veramente qualcosa in più perché tutti viviamo su questo meraviglioso pianeta terra ed è l'unico che abbiamo se vuoi sapere come partecipare vai su www.it slash ora della terra dopo tutto basta soltanto un gesto semplice